Musica Sono qui per dirlo ai miei amici qui, i soldati che mi chiedono le stesse cose e lo ripeto anche a voi cittadini di Israele, noi andremo fino in fondo, fino alla vittoria, niente ci fermerà. Musica Continueranno a restare qui all'ospedale finché ne avranno bisogno, continueremo a prenderci cura di loro, accompagnarli, abbracciarli e sostenerli. Abbiamo accolto 15 ostaggi, 14 dalla Thailandia e un filippino, sono in condizioni stabili e stanno migliorando, ricevono qui tutta la copertura, tutte le cure mediche, infermieristiche, dietologiche e mentali di cui hanno bisogno. Musica I prigionieri hanno sempre creduto che nessuno sarebbe rimasto dietro le sbarre e avevamo fede che la Palestina sarebbe stata liberata. Mi sento felice ma questa gioia si intreccia con il sangue dei martiri e la sofferenza dei bambini e degli anziani. Musica Siamo qui perché siamo prima di tutto parenti di Omer e speriamo davvero che venga rilasciato presto, il più velocemente possibile. Musica Buongiorno, buongiorno cari telespettatori, buon avvio di settimana. Allora avete visto nelle immagini la gioia, la trepidazione, la preoccupazione dei familiari, dei parenti, degli ostaggi israeliani liberati e anche ovviamente tutto questo, questi sentimenti riguardano i parenti dei prigionieri palestinesi liberati da Israele. Oggi è la quarta e ultima giornata di tregua concordata tra Massa e Israele, in giornata dovrebbero essere rilasciati altri 11 ostaggi ma ci sono trattative e notizie di stamattina, c'è qualche problema nella lista che Tel Aviv ha ricevuto, insomma vedremo come si evolverà la situazione. Nel frattempo si starebbe profilando un'estensione di questo cessate il fuoco. Israele fa sapere che Hamas ancora non si è pronunciata, abbiamo saputo che c'è stata in linea di massima una disponibilità di Hamas. Vedremo, intanto Netanyahu in una telefonata con Biden ha fatto sapere che ci sarebbe da parte israeliana, insomma ha fatto un'apertura, un piano per la liberazione di 10 ostaggi per ogni ulteriore giorno di cessate il fuoco, comando Netanyahu, insomma l'avete sentito, ha ribadito chiaro e tondo che dopo questa pausa, vedremo quanto durerà, riprenderà la guerra. Intanto ha parlato anche il primo ministro del Qatar, che è stato uno dei paesi che ha facilitato la negoziazione, Altani che ha fatto sapere in un'intervista che Hamas deve rintracciare alcuni degli ostaggi che non si trovano e che sono detenuti da alcune fazioni nella striscia di Gaza. Poi, per le questioni italiane, su tutte svetta la nuova polemica tra politica e magistratura, innescata da un'intervista di Guido Crosetto al Corriere della Sera, che ha parlato di opposizione giudiziaria, c'è stata la replica molto netta dell'Associazione Nazionale Magistrati e la controreplica di Crosetto, ne parleremo. Oggi non trascureremo ovviamente i problemi economici, il patto di stabilità che è sempre lì, una lunga e difficile negoziazione in Europa e altre questioni che riguardano l'economia italiana. Bentornato Roberto Napoletano, direttore del Cotidano del Sud, ciao Roberto. Bentrovato e grazie. Bentornata, grazie a Federica Fantozzi e a Raffiton Post. Buongiorno. Do il buon lunedì a Francesco Giubilei di Nazione Futura. Buongiorno. Collegato con noi c'è Roberto Castaldi, direttore di Euroactive Italia, che credo sia insomma un network. Buongiorno. Euroactive è una piattaforma molto informata sull'Europa, tanto per capirci. Più tardi sarà con noi Claudio Strinati, che è un noto storico dell'arte. Vogliamo dedicare una parentesi anche all'arte, perché insomma è un'altra di quelle cose che fa bene all'anima. Allora, Francesco, credi che ci sarà davvero la possibilità di proseguire questo cessate il fuoco? Ma il cessate il fuoco è chiaramente un qualcosa di momentaneo legato a questo accordo che è stato portato avanti da Israele e da Hamas. Non credo che diventerà definitivo, per intenderci, in questa fase, perché è ancora in corso l'operazione da parte di Israele. Il cessate il fuoco è legato alla possibilità che vengano liberate successivamente nuove ostaggi, quindi ritengo che questo cessate il fuoco riprenderanno a breve le ostilità, per poi crearsi un nuovo cessate il fuoco nel momento in cui ci sarà un nuovo accordo tra Israele e Hamas. Quello che però mi colpisce, di fronte alle immagini belle, positive, di questi ostaggi che vengono rilasciate, è ancora una volta la contraddizione del dibattito in Occidente, in Europa e in Italia. C'è stato il primo ministro irlandese che ha scritto un tweet abbastanza sconcertante, in cui ha utilizzato il termine lost, invece che il termine kidnap, per intenderci il termine dei bambini che si erano persi, invece che i bambini che non sono stati rapiti da Hamas, non hanno utilizzato questo termine. C'è dall'altro lato, e questo fa molto riflettere, la manifestazione su un tema condiviso ovviamente da tutti gli italiani, come il contrasto alla violenza contro le donne, sabato scorso, in cui le femministe sono scese in piazza sostanzialmente con le bandiere palestinesi, attaccando lo Stato di Israele, lo hanno scritto nella loro piattaforma programmatica e non hanno poi però speso una parola nei confronti delle donne che sono state brutalmente uccise, che sono state anche purtroppo stuprate, che sono state rapite dai terroristi di Hamas. C'è questa contraddizione nel dibattito occidentale rispetto a quello che accade in Medio Oriente e spiace vederlo su una manifestazione che invece dovrebbe essere una manifestazione non ideologizzata, ma che purtroppo su questo tema è stata ideologizzata. Federica Fantozzi, c'è stata questa deriva politica della manifestazione, le tante manifestazioni che sabato ci sono state contro la violenza sulle donne. No, secondo me è vero che c'erano delle bandiere palestinesi, non erano molte, è vero e su questo anch'io penso che sia stato un errore comunque non dare solidarietà alle donne che sono state stuprate e comunque rapite e ai bambini, questo è vero, però penso che sia stata una manifestazione, poi anche lì non bisogna guardare una parte per il tutto. Io sono d'accordo che le immagini degli ostaggi siano non solo commoventi, ma anche importanti. No, anche perché abbiamo visto immagini di distruzione in questi giorni, terribili. Però è anche vero che è quello che sta succedendo a Gaza, quindi bisogna tenere presente tutte le cose, lavorare perché un cessato del fuoco diventi più ampio e sapere che ci sono in questo momento grandi sofferenze del popolo palestinese. Però secondo me l'errore è stato proprio portare la questione medio orientale nella manifestazione della violenza contro le donne. Era una manifestazione che aveva un tema e su quello ha raccolto... Adesioni importanti, una grandissima partecipazione, anche politicizzarla dicendo era contro il governo, non era contro il governo. Quelle manifestazioni sono radicali per definizione. Ricordo che per dire che non sono di sinistra fu contestata, non era contro la violenza, ma fu contestata la Boldrini a proposito della pillola che tanti enti regionali, anche di sinistra, non avevano dato gratis. Quindi bisogna secondo me mantenere il fuoco su quella che è stata quella manifestazione. La pillola abortiva. Esatto. Allora, facciamo così, andiamo in pubblicità, poi riparto da Roberto Napoletano e sentiamo anche Roberto Castaldi. Vi diamo una notizia che riguarda Hamas. A tra poco. Allora, ci sono diversi aggiornamenti. Intanto ha parlato un portavoce di Hamas che ha confermato che ci sarà un giorno in più di tregua ogni gruppo di dieci ostaggi rilasciati. Ma c'è quella questione che sottolineava il Qatar, che gli ostaggi vanno trovati. Infatti è stato confermato che molti di loro non sono nelle mani di Hamas ma di altre fazioni nella striscia di Gaza e anche di privati cittadini. Poi c'è un'allarme bomba di ieri sera in Belgio e per questo a Bruxelles e nel Bramante Vallone resteranno chiuse oggi oltre 27 scuole. Chiudo con una notizia anche questa che è tutt'altro che irrilevante riguardo alle condizioni del Papa. Il Papa sta meglio. Sono stati confermati alcuni impegni. Non ha una polmonite come si temeva ma è sottoposto ad una terapia antibiotica per risolvere un'infiammazione polmonare che causava alcune difficoltà respiratorie. Queste notizie arrivano dal direttore della Sala Stampa Vaticana, Matteo Bruni. Allora, caro Roberto, eccoci a noi. Intanto una tua riflessione sul momento particolare appunto questo cessato il fuoco temporaneo, questo scambio di ostaggi. Da quando è iniziata questa guerra che è una guerra regionale che è nata con questo attacco a Israele quindi è un orrore un orrore che si ripete noi non abbiamo il senso complessivo vediamo dove c'è la democrazia possibile in quei territori è successo in Africa, è successo con il Niger e succede nel Medio Oriente quindi questo Mediterraneo conteso e diciamo diventa quei pezzi di democrazia sopravvissuti sono attaccati. Questo è un tema proprio decisivo da non dimenticare mai nelle nostre analisi. A questo orrore si è, diciamo, questa aggressione terroristica qualcosa di veramente terribile si è reagito perché c'è tutto il diritto di chi è aggredito di reagire non si deve però trasformare mai in vendetta di Stato questo è un punto veramente importante e io credo che la reazione sia stata una reazione che si è fatta sentire quindi non è adesso a questo punto vorrei, ecco nella mia mente questo momento bellissimo nella tragedia vorrei che durasse per sempre e lo so che dico una cosa non tanto realistica però è un auspicio, una speranza esattamente perché questo è il punto dobbiamo anche stare attenti a differenza è rimasta una guerra regionale anche l'Iran, Qatar ha svolto un ruolo l'Iran, la Turchia ma diciamo rispetto a questa nemmeno questa fazione terroristica si è ricomposta non si è separata ma non c'è stata azione non so come devo dire e quindi io penso che questo sia un momento ogni giorno guadagnato di tregua, di pace, di restituzione è un giorno guadagnato per il popolo palestinese per Israele e per il paese intero perché il mondo sta vivendo una fase veramente complicata molto complicata dove si sottovaluta brutalmente quasi sempre in tutte le analisi che è successo qualcosa di veramente questo ritardo nel dare una governance mondiale a un mondo che era totalmente cambiato vediamo lo stesso Putin che era armato in Ucraina Putin era anti-occidentale però voleva entrare nell'Occidente voleva entrare in Europa è arrivata la Turchia non lui adesso i due mondi sono i due baricentri ci sono quasi tutti su del mondo una parte e diciamo le due democrazie storiche dall'altra non c'è più la calamita della democrazia quindi dobbiamo fermarci e dialogare e dare una governance globale a questa divisione è chiaro che una puntata intera hai ragione il nuovo cioè come confrontarsi sul nuovo grande disordine mondiale o il nuovo equilibrio mondiale mettiamola così Roberto Castaldi ho l'Europa l'Europa che appare rilevante rispetto a queste grandi questioni adesso non vorrei essere ingeneroso ma chiedo anche a Roberto Castaldi un'altra cosa che si innesta sulla discussione della crisi medio orientale perché l'altro giorno mi pare che al valico di Rafa è arrivato il premier spagnolo Sanchez che non era solo mi pare c'era anche il premier nord-irlandese non lo so c'era il premier belga scusate perdonatemi il premier belga e questa cosa ha fatto infuriare però altre cancellerie come si diceva una volta europee o no? sì come spesso accade questo dimostra la divisione dell'Europa purtroppo e quindi la nostra rilevanza perché la realtà è che il fatto che il premier spagnolo e belga vadano lì non ha nessun impatto poi reale sulla situazione il punto fondamentale è che noi come europei stiamo qui a vedere quello che possono fare il Qatar la Turchia gli Stati Uniti l'Egitto stesso certo l'Egitto poi ha un ruolo particolarmente rilevante visto anche la posizione geografica però il risultato è che noi siamo spettatori e non attori questo vale per una crisi ai confini dell'Europa perché stiamo parlando del giardino di casa del Mediterraneo come la stessa cosa vale per l'Ucraina e questo perché? perché abbiamo deciso di mantenere una sovranità nazionale fittizia e inutile sulla politica estera di sicurezza e di difesa e quindi noi non contiamo niente in materia di politica estera sicurezza e difesa cioè gli Stati europei i 27 insieme spendono per la difesa quasi il triplo della Russia il 40% degli Stati Uniti con una capacità d'azione del 10% degli Stati Uniti questo vuol dire che tre quarti della nostra spesa per la difesa è inutile noi spendiamo il 40% ma abbiamo una capacità del 10% allora perché? perché abbiamo 27 eserciti nazionali 27 accademie tutto raddoppiato per 27 questo è il modo per essere irrilevanti e influenti nel mondo anche di fronte alle crisi accanto a noi questa è la ragione per cui abbiamo bisogno di procedere verso una maggiore integrazione in materia di politica estera sicurezza e difesa che è anche il modo migliore per gli europei per poter contribuire a creare un'uova governance globale come giustamente diceva il direttore napoletano perché questo è il problema perché abbiamo tutte queste crisi intorno all'Europa perché la sfida egemonica mondiale è tra Stati Uniti e Cina quindi il fuoco strategico americano si è spostato sul Pacifico di fronte alle crisi regionali gli Stati Uniti non intervengono non è successo in Siria non è successo in Libia e così via ci devono pensare gli europei ma gli europei separati non sono in grado di pensare a niente quindi o noi ci andiamo avanti verso la creazione di un governo federale europeo o continueremo a essere spettatori di traccede di tutti intorno a noi che poi producono flussi migratori pensioni terrorismo e così via sì voglio fare una domanda successiva poi sarà una domanda su cui innesteremo tutta la discussione diciamo economica però chiedo a Roberto Castaldi e questo quadro diciamo a chiunque di noi è molto chiaro adesso c'è una discussione forse nata per le nuove regole di bilancio ma l'Europa è consapevole appunto delle sfide che ci sono oltre a quelle economiche perché l'impressione è che tutto si concentri su quali saranno le nuove regole e rispetto a quello che lei diceva la difesa comune la politica comune considerando che ci sono alle porte le elezioni europee a giugno tutto questo o siamo noi che non lo ravvisiamo nella discussione diciamo quotidiana oppure non si capisce perché la riforma dei trattati che sono dei monoliti da cambiare che sta succedendo? Sì c'è una leadership che è stata presa dal Parlamento europeo perché noi abbiamo fatto la conferenza sul futuro dell'Europa questo primo tentativo di democrazia partecipativa con cittadini estratti a sorte in tutti i paesi dell'Unione che discutevano con parlamentari nazionali i parlamentari europei hanno fatto una serie di proposte che dicevano sostanzialmente bisogna che l'Europa parli con una voce sola che sia più attiva sulla politica di sicurezza l'economia la salute e così via il Parlamento europeo si è fatto carico di trasformare quelle proposte che chiedono anche appunto di passare al voto maggioranza qualificata e rafforzare competenze e potere dell'Unione anche in materia di politica estera sicurezza e difesa quindi c'è una consapevolezza il problema come sempre qual è? La resistenza dei governi nazionali qui noi preferiamo fare finta di essere sovrani a livello nazionale con la sovranità nazionale ottocentesca piuttosto che costruire una vera sovranità europea per il ventunesimo secolo che non è un modo di perdere sovranità ma di ridare sovranità ai cittadini perché con la sovranità nazionale noi siamo solo spettatori creando una vera sovranità europea torneremo ad essere un attore internazionale in grado di difendere i propri interessi e i propri valori sul piano internazionale Il Parlamento Europeo ci sta provando e ora tocca al Consiglio Europeo cioè la riunione dei capi di Stato e di Governo a maggioranza Adesso proviamo proviamo un attimo a sistemare il collegamento Aspetti, aspetti, aspetti Castaldi che c'è qualche problema sull'audio ma insomma mi pare che il concetto che esprimeva si è capito e vado al Giubilei perché Giubilei poi si è occupato di queste questioni Sulla conferenza sul futuro dell'Europa erano nel comitato scientifico del governo Draghi il problema qual è stato? Che quello che è emerso dalla conferenza sul futuro dell'Europa è poi in realtà una visione d'Europa che è lontana paradossalmente dagli interessi dei popoli perché se noi andiamo a leggere il documento finale io ho forte perplessità che la maggioranza dei popoli europei abbiano in mente una direzione d'Europa che è quella se vogliamo degli Stati Uniti d'Europa io non credo che sia questo il modello il problema non è la sovranità degli stati che peraltro è una sovranità che purtroppo aggiungo negli ultimi anni è venuta sempre meno il punto è che l'Europa non è in grado di parlare quando ci riferiamo alla politica estera di parlare con una voce che è autorevole e questa è la vera mancanza noi molto spesso c'è il dibattito sul tema dell'esercito comune ma l'esercito comune se noi non iniziamo a ragionare individuare quale deve essere la politica estera europea e lo si può fare con un modello che non è quello degli Stati Uniti d'Europa ma è un modello di un'Europa confederale quindi un modello di un'Europa delle nazioni in cui ci sono alcune voci in cui ogni nazione deve mantenere la propria sovranità e poi ci sono altre voci su cui bisogna essere in grado di parlare a un'unica voce è una grande sfida indubbiamente però questa miscela questo mix è molto complicato è molto complicato però noi non possiamo immaginare che l'attuale struttura dell'Unione Europea evidentemente non funziona sotto vari punti di vista l'abbiamo visto sull'immigrazione lo vediamo sulla politica estera su tanti temi però la soluzione non può essere dato che il modello non funziona allora diamo ancora più potere alla struttura di regista di Bruxelles no noi immaginiamo cerchiamo di capire quale può essere un modello diverso rispetto a quello attuale cioè la soluzione non può essere togliere ulteriore sovranità agli Stati nazionali perché poi il rischio è come abbiamo visto su tanti temi i dossier economici sono emblematici che ci sia un'Europa trazione franco-tedesca e noi italiani rimaniamo tagliati fuori su tanti dossier economici di politica estera industriale e questo è il vero problema allora anticipo una cosa poi adesso che dobbiamo parlare del caso Crosetto vi faccio sentire così sento anche Roberto Napoletano subito l'altro giorno era ospite in Italia ospite dell'osservatorio giovani editori di Ceccherini il governatore della banca centrale tedesca della Bundesbank che ha detto qualcosa questo è un brevissimo estratto che abbiamo preso sulla situazione economica europea e subito dopo sentiamo Giorgetti cosa ha detto a proposito del debito italiano anche il rapporto alla situazione tedesca vediamoli C'è un pericolo che aleggia sul governo e si chiama opposizione giudiziaria ne è convinto il ministro della difesa Guido Crosetto che dalle colonne del... Ecco dicevo il caso Crosetto lo affrontiamo dopo ma bisogna adesso vediamo se c'è un risveglio in regia Giorgetti e Nagel sentiamoli vediamo un po' se riusciamo a vederli I dati sulla crescita è vero non sono confortanti ma non dimentichiamoci che l'Europa è stata alle prese con due cigni neri in quattro anni prima la pandemia poi la guerra in Ucraina con le conseguenti esplosioni dei costi energetici due eventi che hanno colpito maggiormente i paesi con economie aperte come Italia e Germania in tutti e due i casi siamo riusciti a rialzarci e le previsioni dicono che dal 2025 la crescita sarà più consistente quando si dice non bisogna far deficit non bisogna far debito no non bisogna far deficit e debito l'altro a margine di un ecofin il ministro tedesco che peraltro con cui sono abbastanza amico al netto di tutte le altre considerazioni mi dice ah sono molto preoccupato per l'aumento dei tassi di interesse sai quanto mi costa più sul debito mio io quell'anno prossimo pagherò 40 miliardi di interesse io che ne pago 90 cosa dovrei dire la differenza tra 90 e 50 adesso sono numeri all'ingrosso ma la differenza tra 90 e 40 sono 50 miliardi e la differenza di quello che ogni anno lo Stato italiano il ministro delle finanze italiane oggi sono io ieri un altro domani un altro ancora la differenza che deve farsi caso e sottrae in maggiore di tasse ai contribuenti a migliori aiuto alle imprese eccetera 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 sono 50 miliardi all'anno ecco perché diciamo così se quelli di prima hanno sbagliato non dobbiamo sbagliare noi Allora Roberto qui c'è in questa dichiarazione di Giorgetti quello che mi pare sia la strada che sta seguendo questo governo cioè molto rigore nei conti pubblici o no? C'è rigore però c'è anche un'idea di Europa diversa diciamo le cose come stanno io cito l'ultimo esempio le raccomandazioni dell'Europa i paesi dell'Eurozona sono 20 7 paesi minori hanno visto le raccomandazioni approvate poi 9 paesi si sono sentiti dire che erano parzialmente fuori linea tra questi 9 paesi c'era l'Italia e la Germania e anche l'Olanda e anche l'Olanda Portogallo ma insomma Germania, Italia e l'Olanda Francia bocciata 4 sono stati bocciati tra cui la Francia allora io faccio una domanda semplice 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 un'Europa dove o sono fuori linea o sono bocciati l'Italia la Germania la Francia e l'Olanda esiste o è morta ecco allora il punto è semplice la risposta è che è morta cioè la risposta che quelle richieste sono fuori dalla storia i dati noi come si fa a fare quello che chiede Giorgetti perciò ti dico non c'è solo il lato Giorgetti hanno dato una buona prova di serietà ribadita quindi ci sono alcune cose su cui io non sono totalmente d'accordo però proprio l'oggettività deve dire che c'è stata sempre grande attenzione nel rigore della finanza c'è un extra deficit ma un extra deficit legato a una funzione anticiclica io cerco di sostenere i poteri d'acquisto dei più deboli quindi in un momento di difficoltà qual è l'altra faccia del discorso di Giorgetti è che io per rendere il debito più sostenibile e pagare meno interessi ho bisogno della crescita quindi siccome il pericolo che ha l'Europa intera e nessuno può dare più lezioni la Germania non può dare più lezioni non può dare lezioni perché dal punto di vista dei conti pubblici si è comportata a detta delle maggiori situazioni tedesche come una Grecia qualsiasi che la fece infuriare primo secondo non può dare lezioni perché è il grande malatto tedesco dal punto di vista dell'economia è nostro interesse che la Germania torni a correre ma se la Germania vuole correre e l'Europa vogliono correre hanno un problema evitare la recessione e per evitare la recessione bisogna fare come hanno fatto in America centinaia di miliardi di investimenti pubblici non mi pare che sia questa la strada almeno alle viste non c'è questa strada per questo la sottolineo perché diciamo il tema non è c'è stato un momento di solidarietà post pandemico che si è tradotto con le complicazioni europee in declinazioni nazionali dove il risultato italiano verrà conosciuto perché questo è bene dirlo l'Italia ha fatto i conti con un problema storico ventennale cioè da vent'anni non siamo capaci di spendere in investimenti quindi la ricostruzione del piano si misurava con questo problema con la necessità di riportare a livello nazionale supplenza e controllo ovviamente di riportare una capacità di investimento delle imprese questo è stato molto sottovalutato perché la parte più spesa del PNR già con i precedenti governi è quella che alla base del miracolo economico italiano 12,3 punti di PIL in due anni la migliore performance tuttora vigente rispetto a qualunque altra grande economia europea rispetto all'ultimo trimestre prima della pandemia cosa vuol dire abbiamo ripreso la transizione 5.0 ci sono nuovi crediti per le imprese si arriva fino a 12 miliardi 6,2 solo come credito ma di sostegno complessivo alle imprese però noi dobbiamo riuscire a fare le opere questo è il problema dei problemi questo è il problema italiano invece il problema europeo va affrontato capendo che bisogna fare una politica economica comune una politica di difesa comune ma quale politica di difesa se il rappresentante nell'ONU è quello francese dalla guerra e la Germania cioè che nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non c'è un seggio europeo è tanto per capirci è che è la cosa clamorosa questa è la discussione che c'è dietro la sfida che la storia impone poi ci sono tanti piccoli aggiustamenti compromessi che non risolvono i problemi allora andiamo in pubblicità poi se qualcuno vuole aggiungere qualcosa e poi dobbiamo occuparci del caso Crosetto che insomma fa fibrillare tanto per cambiare la politica e la magistratura tra poco allora una coda sulla discussione europea Castaldi prego sì volevo fare due ragionamenti sul volo uno sul fatto di stabilità e crescita che è il surrogato negativo di un governo dell'economia cioè quando a Maastri abbiamo deciso di fare l'unione economica monetaria i francesi non erano d'accordo sull'unione economica abbiamo fatto solo l'unione monetaria per farla funzionare abbiamo fatto i parametri di Maastri poi il patto di stabilità l'alternativa qual è? è fare un governo operare l'economia con come abbiamo detto Next Generation EU dopo la pandemia l'Italia è stata il maggior beneficiario del Next Generation EU e il secondo maggior beneficiario nella scorsa legislatura del piano Juncker di investimenti l'idea che l'Italia non conti sui tavoli europei non è vera infatti siamo i maggiori beneficiari di queste cose abbiamo espresso la leadership in un sacco di campi negli ultimi cinque anni noi abbiamo avuto abbiamo adesso il commissario dell'economia l'ex il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi l'altro il presidente del Parlamento Europeo Sassoli e Tajani il direttore della supervisione bancaria cioè la realtà è che l'Italia conta tantissimo in Europa e continuare a dire che l'Italia non conta e che conta Francia e Germania non è vero semplicemente sembra un po' un esercizio di autoflagellazione ha ragione Castaldi in questo però devo passare Castaldi sa qual è il problema è che la sentiamo male io prego nuovamente la regia magari basta spostarsi di un metro non lo so perché se no è faticoso sentire Castaldi rapidissimo ve lo dico in un secondo noi siamo oltre alla Germania l'unico paese che ha una posizione finanziaria netta positiva cioè tu prendi tutti i crediti tu prendi tutti i debiti di un paese noi abbiamo un surplus pari a quasi 5% del PIL il Portogallo che le agenzie gli hanno dato doppia promozione sta sotto dell'80% la Spagna del 40% la Francia del 46% questo racconto masochista di noi stessi non voglio dimenticare sono d'accordo con te che noi abbiamo 2844 miliardi di debito pubblico che non è proprio però una cosa abbiamo anche la più grande ricchezza privata io sono d'accordissimo sul fatto che dobbiamo farci carico e avere una serietà di bilancio però dobbiamo per ottenere la gestione del debito dobbiamo soprattutto tenere sotto controllo la spesa previdenziale che è pari al 17% del PIL la più alta al mondo quindi dobbiamo avere anche il coraggio di dire queste cose perché chi ci ascolta perché chi sente capisce la realtà però dobbiamo anche cominciare a valorizzare tutto quello che di forte l'economia ha costruito creando anche molta occupazione ma tu hai ragione senza darsi sempre come dire perché il racconto fa parte il racconto diventa percezione e la percezione diventa giudizio e il giudizio degli altri è pagato da noi non ci sono dubbi Federica che sta succedendo non so se vorrei dire qualcosa su questo ma mi interessava ovviamente la tua riflessione sul caso Crosetto perché poi questi sono temi di straordinaria importanza poi scoppia il caso Crosetto una risposta in fondo a un'intervista e si scatena il putiferio ti dico prima una cosa semplicemente sull'Europa che è questa sicuramente l'Europa non sta vivendo un bel momento io spero sia moribonda e non morta perché fuori ci sarebbero le macerie però credo che la risposta debba essere non un patto di stabilità rigido troppo rigoroso vecchio che persino Mattarella ha criticato ma a me mi ha colpito molto quello ha detto Draghi al Financial Times il mondo che ha conosciuto l'Europa dove esportava in Cina aveva l'energia dalla Russia e la sicurezza se la gestivano gli Stati Uniti non esiste più e da questo dobbiamo ripartire secondo me deve ripartire l'Europa magari a più velocità ecco questo io sono accorso magari a più vecchio tema anche questo vecchio tema che però sta tornando di un flash proprio sul caso Crosetto se posso allora facciamo così vediamolo il caso Crosetto tanto per ricostruire qualche piccolo qualche piccola testera di questo puzzle e poi ne parliamo vediamo il caso Crosetto C'è un pericolo che aleggia sul governo e si chiama opposizione giudiziaria ne è convinto il ministro della difesa Guido Crosetto che dalle colonne del Corriere della Sera spiega l'unico grande pericolo è quello di chi si sente fazione antagonista da sempre e che ha sempre affossato i governi di centrodestra l'opposizione giudiziaria rispondendo alla domanda su quale possa essere il più grave pericolo per la continuità del governo Meloni Crosetto spiega cosa intende per opposizione giudiziaria a me raccontano di riunioni di una corrente della magistratura in cui si parla di come fare affermare la deriva antidemocratica a cui ci porta la Meloni siccome ne abbiamo viste di tutti i colori in passato continua Crosetto se conosco bene questo paese mi aspetto che si apra presto questa stagione prima delle europee parole che hanno infiammato lo scontro già rovente tra esecutivo e magistrati una rappresentazione furviante commenta Caldo il presidente dell'Associazione Nazionale dei Magistrati Giuseppe Santa Lucia è furviante la rappresentazione di una magistratura che rema contro e che possa farsi opposizione politico-partitica dice Santa Lucia che allo stesso tempo ribadisce il ruolo dei magistrati c'è un'idea che attraverso il mondo politico di una giustizia subalterna è servente degli organi legittimati dal consenso elettorale che deve rispondere ai programmi di governo non ostacolarli e a stretto giro arriva la contro-replica dello stesso ministro che si stupisce dello stupore suscitato dalle sue parole e a proposito delle citate riunioni di correnti di magistrati spiega ho fatto quel passaggio non superficialmente non a cuor leggero ma con l'amarezza di chi crede nelle istituzioni e a fiducia nella stragrande maggioranza della magistratura e che quindi si sente indignato qualora fosse vero quanto gli è stato riferito solo l'ennesima battaglia di una lunga guerra quella tra politica e magistratura che si acuice sempre quando vengono proposte riforme o nuove norme come la riforma della giustizia targata nordio o quella ancora precedente varata da Marta Cartabria già guarda sigilli del governo Draghi il consiglio di ministri tra le altre cose dovrebbe varare due decreti attuativi dell'ordinamento giudiziario riformato appunto dalla Cartabria prevedono il baro del fascicolo del magistrato contenente ogni quattro anni una valutazione da parte del consiglio superiore della magistratura sul lavoro svolto da ciascun collega Allora ma cosa c'è dietro questa dichiarazione esplosiva di Crosetto Giubilei? Ma io credo che se un ministro come Crosetto che è un ministro di peso all'interno del governo fa una dichiarazione del genere peraltro la fa in un'intervista a un quotidiano cartaceo come il Corriere della Sera quindi non è una dichiarazione se vogliamo sfuggita ma ragionata è evidente che avrà degli elementi ed è giusto che anche riferisca questi elementi come è stato detto lo dovrebbe fare lui stesso l'ha detto al Copasir credo che non sia una novità perché ci ricordiamo nel periodo dei governi Berlusconi talvolta un'attività anche di carattere politico della magistratura che è avvenuta però c'è un altro elemento che bisogna sottolineare ora fa bene Crosetto a fare queste dichiarazioni però c'è un tema anche che riguarda il governo e più in generale il centro-destra che è la riforma della giustizia perché è passato un anno dall'insediamento del governo Meloni ci ricordiamo tutti nei primi mesi un grande fermento sul tema abbiamo parlato anche qua della riforma della riforma nordio e mi sembra che questa riforma che è una riforma attesa da tutto l'elettorato di centro-destra ma aggiungerei da tutto il paese il tema delle intercettazioni il tema della separazione delle carriere e non solo è una riforma necessaria quindi l'auspicio è che in particolare dopo queste parole di Crosetto ci sia un'accelerazione sulla riforma nordio perché è una riforma che credo sia attesa e sarebbe aggiungo un grave sbaglio non portare a termine questa riforma perché se ne parla sempre ma poi ora è il momento davvero concreto per realizzare un cambio di passo sul tema della magistratura Federico Federico peraltro Tagliani ribadisce perché poi ogni forza di maggioranza alle proprie priorità dice premierato autonomia differenziata e riforma della giustizia devono marciare insieme come dire attenzione non vi dimenticate che questa è una nostra priorità del governo ma di Forza Italia diciamo la sensibilità di Forza Italia è maggiore e ti chiedo perché qualcuno poi nelle varie ricostruzioni dice sono in arrivo inchieste per qualche uomo molto vicino a Giorgia Meloni qualcun altro ha tirato in ballo inchieste sull'utilizzo dei fondi del PNRR insomma è una storia cosa sia in arrivo io grazie a Dio non lo so se mettiamo però in ordine i fatti alla uno sono d'accordo non è una parola dal sen fuggita anche se sia nell'intervista è l'ultima domanda chiunque lavori con i media e Guido Crosetto è un politico esperto e navigato sa benissimo che il messaggio arriva forte e chiaro è un ministro istituzionale Crosetto un ministro molto vicino a Giorgia Meloni non a tutto il partito proprio per questo suo peso e anche questa sua credibilità è in grado di lanciare messaggi glamorosi altro fatto le parole di Crosetto sono molto simili alla famosa nota di Palazzo Chigi sulla vicenda del Mastro e cioè i fettori della magistratura fanno opposizione attiva l'opposizione giudiziaria esatto allora se devo dare un'opinione personale non credo che sia stato un modo per riportare forte la riforma della giustizia perché quella come dicevi tu è cara a forze tale e anzi se vogliamo ragionare in termini politici Giorgia Meloni punta sul premierato la Lega vuole l'autonomia e c'è già un ingorbo istituzionale c'è già parecchio da fare se ci mettiamo anche la riforma della giustizia non si arriva però devo dire che mi sarei aspettata insomma da Crosetto che spiegasse meglio quello che è successo perché una cosa sono le riunioni carbonari una cosa è un congresso come dicono i magistrati registrato da Radio Radicale a congressi di magistratura democratica forse prima diciamo lui ha detto se questi fatti fossero veri forse prima si capisce se sono veri e poi si fa una denuncia perché altrimenti suona se arriveranno delle inchieste allora ecco perché arrivano però è come in qualche modo anche la Guardia di Finanza ha indagato sul super bonus però non è che ce l'aveva con Conte ha trovato delle irregolarità allora Paolo Sottocorona buongiorno mi dicono ti dicono grande freddo ma adesso risalgono le temperature no sì no no i saliscendi delle temperature c'è stato sicuramente nel corso delle fine settimana adesso in parte risalgono e hanno queste oscillazioni che sono abbastanza normali no temevo c'era una no no previsione con molte virgolette di cui proprio non parlo neanche allora la situazione le perturbazioni atlantiche di cui abbiamo due esempi una proprio sul vicino atlantico l'altra ormai sul mare del nord hanno trovato la strada per entrare sull'Italia e quindi l'aumento della nuvolosità abbastanza rapido durante la notte questa mattina al momento le piogge sono abbastanza poche però la previsione per oggi dà soprattutto sulle regioni centrali centro-meridionali quelle del versante tirrenico e sulle zone interne con fenomeni che possono diventare anche piuttosto consistenti quindi un peggioramento in piena regola più deboli le piogge che riguardano il nord un poco l'alta l'alta toscana qui ci sono temperature piuttosto basse però parlare di nevicate consistenti non mi pare il caso al momento e poi il versante adriatico il sud con piogge deboli domani c'è un miglioramento quasi al nord quindi ecco perché dicevo che parlare di nevicate non ha molta base però ancora le zone interne del centro il versante tirrenico centrale e meridionale ancora una volta oggi e poi anche domani con fenomeni piuttosto intensi e non proprio isolati insomma ce ne sono molti sulle altre zone del sud qualche pioggia non particolarmente forte arriviamo alla giornata di mercoledì con un apparente diciamo temporaneo miglioramento perché di pioggia ne restano poche sul basso tirreno qualcuna fra la Romagna le Marche ma insomma è una giornata più grigia che altro ma la porta rimane la porta di nord ovest cosiddetta rimane aperta e quindi probabilmente giovedì si ricomincia almeno con delle piogge ma con temperature appunto che fra salire e scende non vanno mai troppo in basso almeno per il momento grazie Paolo dopo la pubblicità si siede con noi anche Claudio Strinati che è un celebre storico dell'arte tra poco e allora buon lunedì anche al professor Claudio Strinati storico dell'arte che si è materializzato in studio buongiorno professore adesso arrivo da lei vorrei proprio un flash un telegramma da Roberto Napoletano sul caso Crosetto tutto già visto tutto già sentito che si è visto sì quello che di nuovo può accadere è semplice in Italia le riforme abbiamo firmato il PNRR tra le prime riforme c'è la concorrenza e la giustizia appunto come si possono fare le riforme in questo paese anche la riforma istituzionale e politica bisogna che chi governa parli con tutte le opposizioni politiche sindacali sociali civili bisogna portarsi ti traduco che non alimenti un clima di scontro questo stai dicendo portandosi dentro uno spazio di condivisione che è possibile su temi civili che soprattutto quelli che toccano la dignità delle persone e cambiano la vita delle persone possono coinvolgere e ottenere risultati equilibrati nel rispetto delle regole a proposito di questo poco fa Giorgia Meloni che cosa ha detto ha detto voglio interrogare tutti su una questione banale la violenza va condannata sempre o solamente quando si rivolge a qualcuno di cui condividiamo le idee e questa è la domanda sulla quale da parte di certa sinistra non abbiamo mai avuto una risposta chiara a cosa si riferisce Giorgia Meloni a quelli che lei ha condannato come intollerabili atti di violenza e di intimidazione contro Provite e Famiglia la sede romana di Provite e Famiglia che è stata oggetto di contestazioni e devastazioni durante la registrazione ha ragione Giorgia Meloni purtroppo ci sono in questo paese molto spesso due pesi due misure quando è avvenuto l'attacco alla CGL un attacco vergognoso lei lo dice noi abbiamo espresso solidarietà giustamente condannato da tutti i partiti politici e da tutte le persone di buonsenso che fossero di sinistra o di destra oggi che cosa accade? accade che nella manifestazione di non un anno di meno che dovrebbe essere una manifestazione contro la violenza che cosa accade? accade che una parte del corteo fa un atto di violenza e va a saltare la sede di Provite e Famiglia e non solo viene assaltata la sede di Provite e Famiglia non solo viene ritrovato un ordigno dentro la sede di Provite e Famiglia ma nelle ore successive c'è un silenzio assordante da parte di Landini quindi della stessa CGL che chiedeva giustamente solidarietà quando l'attacco era avvenuto nei loro confronti un silenzio assordante da parte della CGL un silenzio assordante da parte delle femministe che hanno organizzato di non una di meno l'evento allora giustamente il Presidente del Consiglio dice solo due pesi due misure e giusto sottolinearlo professor Strinati breve storia dell'arte facciamolo vedere per Salani Editore la copertina è difficile che il professor Strinati diciamo si occupasse di altra materia non mi viene da dire io quello che le voglio chiedere è questo perché l'arte è anche comunicazione che cos'è l'arte? ah no non posso rispondere a questa domanda mi avvalgo della facoltà di non rispondere non lo so è la sua vita è l'arte però beh no è parte della sua vita è un oggetto di studio sì è parte della vita è uno strumento di comunicazione sicuramente efficacissimo questo sì cioè in effetti per dire questo questo libretto che ho scritto adesso l'ho fatto per questo cioè per suggerire a chi è appassionato insomma di queste cose che si può trarre delle informazioni interessanti sì questo è vero dall'arte sì questo sì senta io ho visto l'altro giorno sui social uno sketch molto divertente a proposito dei romani e il loro rapporto con il patrimonio straordinario di questa città patrimonio artistico patrimonio architettonico dove si dice che i romani lo conoscono pochissimo però ovviamente se ne vantano quando sono all'estero parlano con degli stranieri che arrivano a visitarlo in Italia certo è così? ma non lo so non è che conosco tutti i romani penso che tutti sì che sia vero è una gloria assoluta Roma si dice sempre la città più bella del mondo lo dicono tutti quindi sì sono sicuro che certo hanno anche ragione a vantarsi voglio dire senta ma il nostro rapporto con l'arte com'è il rapporto diciamo degli italiani è un rapporto consapevole ho visto che è molto cresciuto negli anni l'interesse la consapevolezza per quello che la nostra ricchezza culturale i musei registrano diciamo un incremento di presenza secondo lei è cambiato il nostro rapporto con l'arte antica o moderna che sia? insomma il rapporto con l'arte di ogni singola persona in qualunque parte del mondo è un po' difficile a stabilirsi la cosa bella probabilmente del rapporto con l'arte diciamo nostro dei cittadini italiani è che è naturale cioè nel senso che in Italia di Massiva noi nasciamo in un contesto in cui quella presenza è logica è normale quindi non è né particolarmente interessante né particolarmente disprezzabile è una componente oggettiva della vita poi naturalmente come tutte le cose di questo mondo se ti piace ti interessi molto se non ti piace ti disinteressi altrettanto però è vero che è considerata positivamente cioè la presenza dell'arte diciamo i monumenti le chiese l'archeologia per il cittadino italiano diciamo è forse più normale che per altri è certo più naturale ecco ma il bello fa bene complessivamente penso di sì no perché questo è un progetto che si è molto stressato parliamo anche di alcune terribili periferie italiane diffuse su tutto il territorio cioè forse se fossero anche architettonicamente diverse la vita sarebbe diversa o no è un po' retorico dire questo cioè non c'è un vero di dubbio l'architettura l'urbanistica questo è un argomento di cui parlo in questo libretto che lei ha avuto la bontà di segnalare e l'architettura e l'urbanistica sono uno dei grandi fondamenti dell'eticità e quindi poi dei comportamenti dell'essere umano certo che se tu metti i cittadini gli abitanti in contesti che comunicano soltanto degrado tristezza crudeltà certo non puoi pretendere poi ma come mai non coltivano questi valori così eletti mi dice ancora una cosa ma uno storico dell'arte come lei così competente appassionato quando vede a Roma 200 cantieri piazza Venezia impraticabile sta succedendo i romani sono inferociti ovviamente di tutto questo consideriamo che martedì si assegna l'expo 2030 e abbiamo qualche speranza vediamo di farcela con Riad ma lo vedremo poi che pensa lei dei cantieri beh no eh sì insomma no penso una cosa che è curioso il fatto che sono stati fatti tutti contemporaneamente esattamente effettivamente non ha molto a che fare con l'arte o con l'urbanismo ma col buon senso che è un fattore non irrilevante nella vita sociale generale penso che alcuni cantieri sono in realtà delle imprese strepitose meravigliose eccetera e che però indubbiamente creano qualche disagio insomma nella città per dire io che passo continuamente per motivi di lavoro nella zona di Piazza Venezia effettivamente ogni tanto mi irrito però penso anche che le future generazioni certo dubito io stesso avranno dei giovanenti corsivo il titolo mi è venuto in mente ascoltando era il diritto a vivere dei romani perché era un sabato dove c'erano tutte le manifestazioni unite non si riusciva ad arrivare a messaggero avevo come direttore che per chi non è romano insomma nel cuore di Roma in via del Tritone era proprio il diritto a vivere perché tutti vengono a Roma questo solo dimenticano tutti ma come tutti dimenticano la dimensione di Roma guarda che questa è una cosa che veramente non è io mi ricordo un altro esempio una volta chiamai Vincenzo Cenami gli dissi ma raccontami Roma all'alba e lui stava zitto per 30-40 secondi poi a un certo punto dici ma non ti piace è un'altra città e lui mi disse ma tu me lo dai il passaporto capito perché erano tante città che dovevi non c'è dubbio ma poi Roma e poi ti posso dire un'ultima cosa velocissimo perché vedi c'è David Parenzo lì che ci aspetta io mi ricordo che quando mi inventai gli stati generali della cultura su 24 ore c'era una cosa molto importante noi abbiamo il più grande patrimonio artistico storico culturale ed eravamo l'unico paese al mondo che non aveva un art bonus cioè noi abbiamo il debito pubblico l'art bonus e cioè chi voleva fare mecenatismo non poteva farlo ecco dopo due anni ci vogliono due stati è stato introdotto lo fece Franceschini e quindi questo diciamo va bene diamo a Franceschini quello che è di Franceschini ciao David buona settimana ciao caro Andrea buon inizio settimana un caro saluto a te e a tutti gli ospiti e in particolare non me ne vogliono gli altri a Roberto Napoledrano che come ricorderai è stato anche mio direttore a Radio 24 al Sole 24 ore allora noi ripartiremo da questo tweet che tu hai giustamente citato poco fa di Giorgia Meloni che critica la manifestazione quella di sabato di non una di meno c'è anche anche Salvini è intervenuto sulla stessa manifestazione ricordando quello che fu l'assalto alla CGL dicendo su quello ci fu un'indignazione di tutti mentre per quanto riguarda quell'episodio che è avvenuto durante la manifestazione di sabato c'è stata dice Salvini meno indignazione ripartiremo da lì poi il caso Crosetto poco fa anche Landini la nostra Ludovica Ciriello si collegherà poi da Cagliari dove è in corso la manifestazione della CGL anche Landini è intervenuto parlando di pericoloso attacco alla magistratura e lo ascolteremo e quindi il caso Crosetto ne parleremo con Maurizio Molinari Marino Silibaldi e poi ancora Luca Telese e poi avremo la strana coppia che non è il film con Walter Mattau che tu ben sai ma Rizzo e Alemanno un ex comunista e un ex Missino insieme domenica attento all'ex comunista perché è comunista Rizzo non è ex ah è ancora comunista? sì c'è ancora il partito comunista? non lo sapevo bene io glielo chiederei mi hai fatto bene a ricordarmelo comunque questa strana coppia si unisce per creare un nuovo grande movimento e l'avremo tutti e due in studio e poi nel giorno in cui oggi a mezzanotte dovrebbe finire la famosa tregua in Medio Oriente abbiamo l'ambasciatore israeliano in studio Alon Bar ambasciatore di Israele in Italia Manuela Tviri collegata da Tel Aviv e Dario Fabri e poi ancora l'economia con appunto la manifestazione a Cagliari e chiudiamo con il professor Vittorio Sgarbi cercheremo anche con lui di capire qualcosa di più com'è la temperatura al governo ma tra poco noi abbiamo strinati qui Sgarbi parla di politica noi abbiamo parlato di arte ricordo ancora breve storia dell'arte per Salani editore e chiudiamo con le immagini che possono scorrere che dopo 47 anni diciamolo ci fa piacere abbiamo rivinto la Coppa Davis grazie a insomma un lavoro di team di squadra ovviamente squadra trascinata dal numero 4 del mondo Yannick Sinner ieri peraltro anche nel MotoGP abbiamo con Magnaia ribadito che siamo molto forti e chissà che questo non sia il preludio lo dico sottovoce per Expo e per altre cose che dice giustamente Roberto Avoledalo diciamole che vanno bene non va tutto male in questo paese grazie a tutti voi ci vediamo domani adesso c'è la reghettira grazie a tutti Grazie.